sai com'è sono qui ubriaco ancora una volta e ascolto tchaikovsky alla radio gesù lo sentivo 47 anni fa quando ero uno scrittore morto di fame ed eccolo qui di nuovo ora io sono uno scrittore con un po di successo e la morte va su e giù per questa stanza e si fuma i miei sigari beve qualche sorso del mio vino mentre il vecchio pietro continua a darsi dentro con la sua patetica ho fatto un bel pezzo di strada e se ho avuto fortuna è perché ho tirato bene i dadi ho fatto la fame per l'arte ho fatto la fame per riuscire a guadagnare 5 dannati minuti 5 ore 5 giorni volevo soltanto buttare giù qualche frase il successo il denaro non mi importavano io volevo scrivere e loro volevano che stessi alla pressa meccanica in fabbrica alla catena di montaggio volevano che facessi il fattorino in un grande magazzino beh dice la morte passandomi accanto ti prenderò comunque non importa quello che sei stato scrittore tassista pappone macellaio paracadutista acrobatico io ti prenderò ok baby le dico io adesso ci beviamo qualcosa insieme mentre l'una di notte diventano le due e lei solo sa quando verrà il momento ma oggi sono riuscito a fregarla mi sono preso altri cinque dannati minuti e molto di più